Bene, benvenuti a tutti. Oggi vi faccio vedere come si usa, non tanto come si programma, diciamo un lucchetto a combinazione elettronica come questo, in cui se io premo 5, 6, 7, 8 riesco a aprire la porta, quindi una cosa abbastanza importante per fare dell'escape room. Quindi questo è un mondo che ho reso disponibile, facendo il play praticamente abbiamo sostanzialmente questa porta che si aprirà facendo 5, 6, 7, 8 e poi premendo questo tasto che l'apre. Come vedete cliccando sul lucchetto aperto si apre la porta. Se faccio questo comunque si resetta e se per caso quando compongo il codice faccio degli errori posso cancellare una cifra per volta. Ora in questo caso ho aperto la porta ed è quanto basta per le escape room normali e quindi stop così. Il codice di questo oggetto qua è un codice scritto in Python, quindi non è un codice blocco, ma è praticamente un... Dicevo, non è un... c'è nel codice praticamente c'è questa sequenza di codici in Python che è scritto qua, dove praticamente vengono presi i vari pezzettini, i vari tasti che compongono la tastiera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, in più il tastino che fa il cancellazione, il tastino che fa la verifica e il tastino che resetta tutto. Questo viene fatto in Python semplicemente perché ho visto che è complicatissimo farlo in modo normale con il co-blocks, ma non importa, voi praticamente se volete inserire questo nelle vostre stanze con spaces, sarà sufficiente voi create una stanza con spaces e remixando, o comunque facendo un coppia e incolla, partendo da il... da questo oggetto. Quindi in particolare, quindi, come funziona? Andate al sharing details, quindi vedete i details di questa... di questa stanza. In realtà lo trovate perché vi metterò anche nel video YouTube l'indirizzo di questa... di questa stanza. Ecco, sto facendo la prova con Firefox, così è un browser totalmente nuovo. Si entra praticamente nella mia stanza... questa... questa stanza che consente praticamente di fare il remix, quindi voi potete prenderla, remixarla, quindi prenderla tranquillamente, e quindi quando la prendete... ecco, quando la prendete potete fare, come vedete, il remix. Il remix significa che potete prenderla, ottenere praticamente la stanza così com'è, e poi potete selezionare il lucchetto, che sarebbe questo oggetto qua, e fate... potete fare un copia, quindi possiamo fare un ctrl-c, e poi andare praticamente in un'altra... nella stanza, no, che state creando, quindi andate in cospaces e fate... create cospaces, empty scene, e se fate ctrl-v vedete che vi compare questa... che è la... questa tastiera. e analogamente potete andare praticamente nella porta, e copiarvi la porta, quindi fate ctrl-c e vi copiate la porta qua, che si chiama praticamente uguale, e potete andare sempre qua e copiarvi praticamente nel codice, il codice Python, quindi ctrl-a, tutto questo codice Python, andate nel vostro code, qui nel Python, fate ctrl-a, ctrl-v, e mettete praticamente il... tutto a posto, ok? A questo punto questo lucchetto funziona con la sua combinazione 5, 6, 7, 8, quindi quando fate il play, 5, 6, 7, 8, e poi premette sul lucchetto e si apre la porta anche nella vostra applicazione. Se volete che la porta si apra con una combinazione diversa, nel script Python cambiate poi qui dove vedete ok, l'indicazione 5, 6, 7, 8, che volete che sia premuta. Se volete che i simboli siano diversi, ad esempio che siano invece 1, 2, 3, che siano tipo pane, cipolla, carota, potete usare qualunque simbolo, unicode, che poi magari viene mappato internamente come numero, o quello che volete, insomma lo potete verificare, potete cambiare tutto, potete cambiare anche il simbolo, se non è chiaro, e se volete avere più porte che si apre con una combinazione diversa, dovete copiarvi di volta in volta la tastiera e cambiargli eventualmente il nome dei tasti, perché in questo tastiera vedete che ha K1, K2, eccetera, se ne volete avere un'altra, dovete chiamarla per esempio L1, L2, eccetera, dove c'è la K minuscola mettete un L, e aggiungete in coda a questo programma lo stesso programma eventualmente che usi praticamente un codice diverso, quindi che usi magari una X diversa per esempio, oppure sostanzialmente, magari anche in momenti diversi, può anche andare bene a riutilizzare queste funzioni, ma dovete cambiare sostanzialmente la programmazione dei tasti, quindi i tasti praticamente non sanno più K1 che è associato all'elemento K1, ma dovete avere un altro K L1 ad esempio, cioè ti chiamate L1, quindi K L1, K L2, K L3, eccetera, eccetera, per la seconda tastiera, e di conseguenza poi fare un K L1 input, quindi dovete fare questa modifica qua. Però direi che per un escape room molto semplice, che abbia eventualmente un solo lucchetto, fare semplicemente il copy e incolla come vi ho mostrato finora sia più che sufficiente e non abbia effetti strani, insomma sia abbastanza semplice da fare. Ok, vi saluto, questo è tutto, grazie mille, buona serata.